E di nuovo eccovi qui, faccio passare un po' di tempo ma alla fine ci sono, ritorno, ritorno e ritorno alla grande perché ho un regalo che arriva da Tiffany, direttamente da Tiffany & Co. Lo apriamo insieme, io l'ho già tolto dalla scatola per comodità ma non l'ho ancora aperto, sono proprio curioso di vedere che cosa c'è dentro. Allora andiamo insieme a togliere, no vorrei provare a non rompere il sigillo ma a togliere un po' di carta, allora, ok c'è la scatola, la busta, poi ma guarda c'è veramente, imballato tutto per bene, addirittura c'è un'etichetta di reso ma è un regalo quindi direi che non andiamo di certo a renderlo e poi appunto c'è la scatola, mamma mia ragazzi, mamma mia che cosa non è, che bellezza, che bellezza, andiamo a vedere insieme. Allora, un altro bigliettino, ah che carini, che carini che sono, il bigliettino con la bustina e poi andiamo a... Allora io vorrei provare a vedere se riesco a sciogliere il nodo, cioè in realtà a togliere senza sciogliere il nodo perché l'ho visto fare proprio stamattina da un'altra ragazza, mmm, io non credo di essere capace, ma forse sì, forse sì, forse sì, a rimetterlo sicuramente non riuscirei a rimetterlo, ok, andiamo ad aprire insieme, mamma mia. No, ragazzi, no vabbè, ma che cosa bella che è, scusate che ce n'è uno girato, non so perché, ragazzi, è porcellana, sono fantastici, sono praticamente, vediamo se riesco a toglierne uno, delle tazzine, delle tazzine. Bellissime, mamma mia, ragazzi, sono stupendi, sono davvero davvero stupendi, grazie Tiffany per questo splendido regalo, sono troppo troppo contento, ho quasi anche la felpa abbinata, grazie ancora Tiffany, che bello.